Buongiorno a tutti, sono Luca De Lucchi, socio e consigliere dell'associazione gfos.it. L'associazione è un ente non profit di promozione sociale che è nata nel febbraio del 2007. È un'associazione che ha lo scopo di favorire e diffondere e tutelare il software geografico libero e open source e inoltre di supportare la diffusione di dati geografici aperti in formati e standard anch'essi aperti. Nell'associazione fanno parte liberi professionisti, universitari, ricercatori, studenti e tutti quelli che hanno a cuore l'informazione geografica libera. Inoltre l'associazione, sin dalla sua nascita, è il local chapter italiano di Orgeo. Orgeo è la fondazione internazionale che ha lo scopo anch'essa di tutelare, aiutare la diffusione e il supporto dello sviluppo di software geografici liberi, tra cui pensiamo ad esempio a QGIS, a GrasGIS, GeoServer, tutti i software che sono di utilizzo comune nel nostro ambito. Attualmente l'associazione ha circa 100 soci che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e probabilmente anche qualcuno si trova all'estero. E cosa fa l'associazione? Probabilmente l'attività più importante è quella della diffusione. Organizziamo, supportiamo e partecipiamo a convegni, conferenze, tavole rotonde, eventi che trattano l'informazione geografica libera in special modo, ma anche tutte le varie conferenze dove si tratta di informazione geografica. Noi cerchiamo di portare gli aspetti che il più ci contraddistinguono, perciò il software libero e gli open data geografici. Siamo un interlocutore accreditato e riconosciuto da pubblica amministrazione, anche altri entri pubblici e privati, così come organizzazioni. Abbiamo contatti con molte delle organizzazioni che fanno parte anche della conferenza odierna e cerchiamo, perciò, di portare la nostra visione del software libero e dell'open data all'interno di questi enti. Infine, supportiamo lo sviluppo del software geografico e non, in special modo geografico, ma ogni tanto ci è capitato anche di contribuire a crowdfunding o supportare software non direttamente geografici. Tramite donazioni, traduzione, per esempio, la comunità italiana, in special modo con il supporto della comunità di QGIS Italia, hanno contribuito alla traduzione completa di QGIS e altri progetti, per esempio, Geolive e Grass. Visto che è una delle attività che svolgiamo con più impeto e con più dedizione è quella dell'organizzazione di eventi, da un paio di anni l'evento è diventato uno unico, prima erano un paio di eventi che venivano organizzati più o meno dalla stessa comunità e dal 2017 si è deciso di unire tutti gli eventi in uno unico, che si chiama FOS4GIT, è un evento annuale, viene organizzato negli ultimi anni con Wikimedia Italia e con altri partner. Qualche anno fa eravamo in contatto con Arcofos, per esempio, ma ovviamente altri enti e organizzazioni che hanno come scopi gli stessi della nostra organizzazione sono i benvenuti per contribuire all'organizzazione dell'evento. Queste sono immagini che derivano dal convegno dell'anno scorso che fortunatamente è stato probabilmente una delle ultime conferenze organizzate a livello italiano, ma forse anche europeo, perché a febbraio non c'era ancora nessun limite di organizzazione, perciò eravamo riusciti a organizzare un evento con più di 300 persone. Quest'anno invece le cose saranno un po' diverse e cogliamo questo evento proprio per lanciare la conferenza di quest'anno, il FOS4GIT 2021, che si terrà sicuramente online, ma speriamo anche di riuscire a creare degli hub a livello regionale o anche cittadino dove le persone si possano rincontrare e seguire la conferenza insieme. Questo per far sì che la parte che sicuramente è molto importante nella conferenza, che cura del networking e di stare insieme e far scambiare due parole con persone che hanno molto in comune con te, sia un pochettino in tradunione della conferenza e che sia possibile anche quest'anno. In questo modo qua anche non dovremo richiedere grossi spazi, basteranno delle sale più piccole e potremo rispettare più facilmente le leggi. Speriamo che a settembre siano un pochettino più permissive, comunque che ci saranno in quella data. Perciò vi ricordiamo dal 19, 20 e 21 settembre 2021 ci sarà il FOS4GIT, che è organizzato da GFOS con il supporto di Wikimedia Italia. L'ultima cosa che vogliamo segnalarvi è che nel 2022, il prossimo anno, si terrà a Firenze, dal 22 al 28 agosto, il FOS4GIT internazionale, che è l'evento clou per gli appassionati e i professionisti del software geografico libero. È la conferenza organizzata e promossa da Olgeo e l'anno prossimo, come vi ho detto, si terrà in Italia con l'organizzazione della nostra associazione e il supporto del Convention Bureau di Firenze, AIM Group e l'Università di Firenze. Non è ancora del tutto ufficiale, però è ufficioso che la conferenza si terrà in Italia. È stato già votato, deve essere soltanto, c'è più uno step burocratico che il board di Olgeo deve approvare. Nelle ultime e-mail abbiamo dato un grosso impulso alle social media dell'associazione, creando e-mail di nuovi, rianimando quelli che avevamo già, che però non erano molto utilizzati e perciò adesso ci potete trovare su Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Telegram, ma il canale comunque ancora più utilizzato probabilmente è la mailing list. Potete trovare e iscrivervi alla mailing list su list.gfoss.it Con questo direi che vi ho fatto una brevissima introduzione dell'associazione per eventuali domande siamo a piena disposizione.